Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento importantissimo, una battaglia di civiltà da combattere senza sé e senza ma. Gianna Cavallo, responsabile del settore Pari Opportunità e Servizi Sociali dell'Associazione Stella Maris, come vi state organizzando? Per quella giornata abbiamo organizzato vari momenti che poi andremo ad esplicare nel dettaglio, ma oggi volevamo presentarvi una manifestazione sportiva curata dalla responsabile dello sport dell'Associazione Stella Maris che avverrà proprio il 25. E allora diamo spazio a Marisa Daniele che è la responsabile del settore iniziative e attività sportive dell'Associazione Stella Maris. Parliamo di questa iniziativa, come vi state preparando? Cosa bolla in pentola? Sarà sicuramente una bella manifestazione, infatti invito tutti a partecipare. Ci incontreremo il 25 novembre in Piazza Maria Immacolata, quindi più donne parteciperanno e meglio sarà. Noi già stiamo coinvolgendo parecchie persone, quindi ci riuniremo lì, indosseremo una maglia con la scritta No alla violenza sulle donne e quindi partiremo da Piazza Maria Immacolata e faremo un percorso di circa 3 chilometri. Poi arriveremo in Villa Peripato e torneremo poi da Via d'Aquino qui in piazza. In piazza ci aspetterà un gazebo allestito con una raccolta fondi che andrà proprio per organizzare un corso di difesa personale a favore delle donne vittime di violenza. Quindi ci sarà inoltre una bella dimostrazione di difesa personale, quindi questo corso che lo farà Mariella Zingaropoli, un'altra nostra collaboratrice, quindi questa dimostrazione proprio dal vivo per vedere come viene fatta questa difesa personale. Io invito tutti a partecipare anche perché sarà una bella manifestazione e quindi un aiuto proprio per queste donne vittime di violenza. Noi faremo il possibile per renderla molto molto bella. E allora Gianna Cavallo un ultimo appello. Tutti in piazza Immacolata Taranto il 25 novembre. Tutti insieme in piazza per dire tutti quanti insieme con un coro che deve durare però 365 giorni all'anno per tutta una lunga vita. No alla violenza sulle donne.